Oggi Pony di The Amazing Digital Circus è entrata nel mio mondo di Minecraft ed è successo il putiferio Prima di continuare volevo dirvi che sarò al Milan Games Week tutti e tre i giorni Quindi mi raccomando se siete lì potete scambiarvi due parole con me o fare direttamente una foto Quindi vi aspetto lì Dai finalmente non scendiamo mamma mia che oggi ho una fame incredibile Oh ma chi è qua che rompe? Mi stavo preparando il mio cibo che c'avevo fame E qua mi devo trovare qualcuno che mi rompe Chi è? Scusi 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 mi serve il suo aiuto per favore Per che cosa intanto? Ma io la conosco perché non l'ho mai vista queste parti tutto ok? Allora io oddio come glielo spiego Io ero bloccata in un circo e ho trovato una porta Che mi portava a una serie di stanze tante 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 stanze E poi sono finita qui Ok ma dico viene magari da qualche punto là nord ovest da qualche parte Cioè dico Venga 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 Perché dico La porta era tipo qua da queste parti Qui tipo Da queste parti ma quindi viene da terra da sottoterra Cioè da che No era tipo qua appare e scompare Che senza appare? Qua io non vedo nessuna porta Qui lo giuro Ma non c'è niente No si fidi di me si fidi di me perché era proprio qui e deve essere sicuramente colpa di Ok ma la mia domanda è una Come faccio a fidarmi di una ragazza vestita da clown? Io le ho detto che vengo dal circo no? Eh ok va bene ma Cioè da dove sei venuta? Cioè sarà da qualche circo là in qualche parte lì ma Dico Mi scusi signore ma lei abita qua? Ha mai visto un circo da queste parti? No ma comunque io stavo qua bello tranquillo con la mia casa Che ho pagato non so quanti dobloni di minecraft Eh si vede si vede Disturbarla? Ok ma come la dovrei aiutare? Io non so Qual è il suo problema Dobbiamo cercare quella porta Era una porta di uscita Porta di uscita Di exit Sì Può sembrare strano Infatti lo è però comunque Se passiamo sopra Ero bloccato in un circo digitale Infatti è strano anche questo posto Perché è tutto quadrato Infatti siamo nel mondo di minecraft Infatti Siamo nel mondo più che bettoso E di tutto il mondo Ecco io vengo da un mondo dove esistono le cose tonde Non nominare mai più una roba tonda nella tua vita No comunque esistono davvero lo giuro Cioè davvero Ma tutti sanno che la terra è quadrata Non è mai esistito un cerchio Ok no Forse in questo posto però Io sono stata Io vengo da un altro posto Dove esistono le cose tonde E poi sono stata bloccata in un circo digitale Ok Ok perché Non mi ricordo neanche come ci sono finita Ma comunque il capo di quel circo mi ha dato il nome Pomni E devo tornare a casa Ok ma Ok Pomni Ma come ti faccio arrivare a casa se non so Dov'è casa? Cerchiamo delle porte? Io ho una porta Cioè quella di entrata di casa mia Ma non so quanto possa essere utile Prova? No niente No prova questa porta Ok 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 Niente di nuovo Ok Allora di sopra ci sono altre porte Prova questa No è doppia Doveva essere una sola Eeeh Non ce ne ho più E la non so Cioè da dove Dov'è che vorremmo trovare queste sue porte? Oh no sta piovendo Sta pure piovendo Cioè non so come la potrà aiutare signorina Pomni Cioè boh Non è che c'è Qualche posto Con delle porte qua vicino Non c'è un villaggetto Qualcosa così Insomma Sarà un'isola abitata Eeeh Sì ci sarà un'isola Però è molto Molto lontano da qui E come vede qua ci è Ci sono pure un po' di tuoni Ma io direi di andarci domani Cioè Un po' Cioè è brutto andare con questo tempo Mmm Mmm Va bene va bene Però mi dà la sua parola Che mi aiuterà a tornare a casa? Ci proverò Ovviamente Se non ci riusciamo Niente non è colpa Però ci provo Giuro Mmm Ok Prego di lei Prego di Dopo di lei Qua stavo preparando Da mangiare Quindi se lei vuole Può mangiare qua Uh sushi Speriamo che finisca Il bravo Alve Cominciare ad andare Eh Perché hai un coltello? Sushi Ah Sì Sì Sushi Prego Grazie Comunque che qua mi racconta Cioè Lei dice di appartenere a questo circo digitale Ma che cosa mi può dire di più? Che vorrei Viene via da lì Da quel circo? Ok ma Come si fa a uscire da questo circo? Non lo so Non lo so Cain ha detto che non si può uscire E che aveva creato un'uscita Ma non aveva finito il livello E non voleva che lo usassimo Perché poi saremmo finiti nel vuoto E io l'ho usato E sono finita nel vuoto E adesso sono qui Come faccio? Eh Allora Del vuoto Ne so Veramente poco Però Ci sono diversi vuoti nel mondo Sicuramente quello di Kane Non è l'unico Lei conosce il signor Kane? Eeeh Kane come? Cioè Che tipo di Kane? Ehm È una bocca In che senso una bocca? Nel senso che è una bocca Una bocca? Sì È una bocca con due occhi Nella bocca Quel Kane era veramente strano Ma non mi ricordo che era una bocca E comunque sì Conosco un certo Kane Però cioè Non è una bocca Cioè È un umano Normalissimo Ehm Quindi non è una specie di dentiera Con due occhi dentro Che può controllare gli occhi Nello spazio? No No Io mi ricordo di avere un mio amico Che si chiama Kane Che gestisce proprio un circo Però È un po' pazzo Alcune volte sta pure troppo Dentro casa sua Però Non lo so Sì E anche mio Kane è proprio pazzo Ed è Digitale Quindi La forma delle persone Può cambiare? Una volta mi stava invitando A giocare a casa sua Con un oggetto Era un coso Che si metteva in testa Però Gli ho detto Guarda no Devo lavorare Infatti ho dovuto Lavorare con YouTube Poi mi sono fatto Questa casa qui Cioè Capisci Un po' pure te Un visore? Sì Era un visore Della realtà Dirattual Là Cioè Non so Che cosa Che cosa Mi voleva dire Però comunque Era un visore Cioè era figo Però alla fine Ho detto No guarda Devo lavorare Alla fine Non ho fatto nulla Beh sembra simpatico Kane Questo qui Boh magari lo dovrei Revitare Il nostro Kane Aveva una storia Con la luna Davvero? Era innamorato Della luna? No E che tipo Quando mi ha fatto Fare il giro C'era la luna Che tipo Lo chiamava tesoro Capisco Capisco Invece il mio Kane La sua La sua ex La sua ex La classificava Come la luna Perché Cioè È una cosa Ormai Irraggiungibile Che lui Non può più Prendere O comunque Prendere in mano O aiutare Almeno Come vuole lui Mi dispiace Per lui Però Non so Cioè Però sembra un po' Pazzo Ma Non lo so Già Comunque da quando Sono entrata nel circo Non mi ricordo Il mio vero nome Infatti Pumni Me l'ha dato Kane Boh Mi stai facendo incuriosire Su questa faccenda Voglio veramente sapere Che cosa è successo E che cosa succederà Ma Prima di questo Penso che Dovremmo un attimo Riposarci Decidi tu Pumni Passiva volta Dove dovremmo andare Perché Proviamo a vedere Nella foresta Magari là c'è È andata la porta Può essere Può essere Non lo so Tutto può essere Nella vita Allora Ah Non ho paura Di fulmini Giuro Bello Qua ci sono i quadri Che ho speso Veramente un sacco A mettere lì Tu non puoi capire Quanti soldi Ho dovuto spendere Per questi quadri Poi per questi libri Guarda Sono belli Sì sì Si vede che sono Abbastanza vecchie Soprattutto mai letti Allora Devo risparmiarmi i soldi Per pigliare il nuovo computer Perché se no Non riesco più a fare i video Ah sì Infatti manca E poi Poi come faccio i soldi Poi come pago L'affitto di questa In effetti In effetti Ha senso Ha senso Allora io Dormirò sul divano E domani andiamo a vedere Nella foresta Va bene Buonanotte Notte Che ti basta Oh ma Ma che è tutto sto casino Ma che è Ma che sensazione C'è Pony Pony che vuoi fare Con quel coltello Pony che vuoi夠 Pony che vuoi arrivi Grazie a tutti.